Buoni due anni sul miglio, non corre Ulisse F, aveva il numero 4 su Udex Staff, numero 7 c'è Gaetano Di Nardo, totalizzatore orientato per l'Universal Game, LF, c'è VP dell'Annunziata, ma anche Ucci Charles con Vincenzo Luongo, mezzo meccanico in movimento. Sei due anni, primo clou del pomeriggio, mezzo meccanico a 200 metri, quindi galoppa il 7 Udex Staff, perde l'allineamento, va via la macchina in velocità. Ucci Charles dal centro, nei confronti di Uccias, poi Universal Game, più discosto a Perdeni. Puledri che affrontano la piegata, si distende bene il leader, corre al comando, 13.2 parcheggia l'avversario e così siamo al completamento della prima curva. Si completano anche i 400 iniziali, passati in 29.6. Ora gradua a piacimento il leader e davanti alle tribune cerca di riprendere contatto Udex Staff dopo l'errore in partenza. Se ne vanno i 600 iniziali in 45 e mezzo. I cavalli che affrontano la penultima curva, non ci sono variazioni sostanziali, amministra ancora bene Ucci Charles, il vantaggio dei birilli su Uccias e poi via via gli altri. Mezzo miglio nell'ordine dell'1.27.17.2 di frazione. Di fronte per il momento nulla muta, nulla cambia. Poi viene via l'1 di A Perdeni e Stana Universal Game per anticipare Udex Staff. E l'allievo di papà Salvatore, molto incisiva, anticipato da Uccias. 17.9 il chilometro, stanno passando insieme con A Perdeni che persevera. 400 alla meta, 14.1, 1.32, tre quarti di miglio. A Vallial completamento è la curva finale con Udex Staff che ha fatto un corsone ancora lì. A Perdeni rinnova gli attacchi, sta passando A Perdeni, passa ma interviene Udex e ha fatto veramente un numero. Udex Staff va su A Perdeni e lo stampa, anzi la stampa, proprio sul traguardo. 2.1.7, 1.16.1 misura che vale molto meno per l'allievo di Di Nardo in sostituzione del Caterpillar. Veramente è un numero questo Turbo Sund, i colori di la scuderia Andini e Insulchio in Morgan Di Nardo, che ora va a prendere una bella targa al proprietario offerto dai podromi Partenopei. 9 euro in chiusura, un vero numero di questo Turbo Sund, grazie anche all'opera di Caterpillar che allena questi suoi puledri alla grande. Linea allo studio.